Momento difficile nella vita di uno degli ex volti noti della casa del grande fratello Vip a seguito di un lutto che ha a cosa colpito la sua vita. A rompere il silenzio stato lo stesso ex del reality show attraverso la pubblicazione di un messaggio di addio condiviso sui social. Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di leggere alcuni tristi annunci che riguardavano, appunto, due addio improvvisi per lo staff dietro le quinte del reality show, come commentato anche da Alfonso Signorini che si lasciato andare cosa a un messaggio di cordoglio. I riflettori dei media, per Accuadrato, si concentrano su un altro ex del programma del grande fratello Vip che in questi ultimi giorni ha parlato a cuore aperto del dolore che ha a cosa colpito la sua vita improvvisamente. Tragico lutto per la ex del GF Vip. Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso delle ultime ore i riflettori sono puntati su un ex del programma a seguito della improvviso dolore che ha colpito la sua vita. Il volto noto del reality in questione è proprio lui, l'artista ed ex opinionista Pupo che negli ultimi due anni è stato sempre al fianco di Alfonso Signorini durante la messa in onda del programma. L'artista, solo pochi giorni fa, nella sua pagina Instagram ha cosa ha deciso di rompere il silenzio e parlare del momento difficile che sta attraversando. Pupo, sono profondamente scosso a Un addio arrivato improvvisamente nella vita di Pupo e che ha spiazzato inevitabilmente l'artista cosa come lo stesso artista ha confidato ai propri follower attraverso un messaggio condiviso nella sua pagina social. Nel post in questione, non a caso, possibile leggere il seguente messaggio scritto all'artista, improvvisamente scomparsa la mia carissima amica Cancelletto Tatiana Mazzevskaya che tutti noi chiamavamo Cancelletto Tatiana di Mosca. Sono profondamente scosso ed addolorato. Mi manchera il suo amore ri- Pupo, sono profondamente scomparsa la mia carina di Mosca. Pupo, sono profondamente scomparsa la mia carina di Mosca.